E' per me un piacere molto grande accogliere il Presidente Sarkissian qui al Quirinale, insieme alla sua gentile consorte, alla delegazione che lo accompagna, per questa prima visa di Stato di un Presidente della Repubblica d'Armenia in Italia. Questa vista è storica, viene compiuta ed è un ulteriore significato nell'anno in cui la Repubblica d'Armenia festeggia il trentesimo anniversario dell'indipendenza. E anche per questa ricorrenza rinnovo gli auguri al Presidente Sarkissian. E' per questa ricorrenza rinnovole, 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 è la ricorrenza rinnovole, il metranozio di PR, e' con il suo gloria, a rinnovole, i' per questa ricorrenza rinnovole di rinnovole, un racconto, un progetto, ma è stata una cattaccia del diritto, una cattaccia del diritto, e anche questo arrivo a tutte le persone che ha scattato, perché la sua scattata è stata preparata, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.